Spero che pagherò, troveremo una via Ti do tre giorni, su ne vai Addio! Assistenza tecnica, cosa posso fare per voi? Sì, salve, buongiorno Finalmente, siamo... Buongiorno, siamo bloccati dentro l'ascensore Per favore, fateci uscire velocemente Senti, lascia lì Sì, ma non possiamo... Scusate, non riempire Sento a capire, potete parlare una alla volta, per favore? Appunto, salve, buongiorno, di nuovo Dunque, deve esserci stato un problema l'impianto elettrico nel palazzo Conor e Nassau C.A.I.S. Siamo bloccati tra il settimo e l'ottavo piano Ha idea di quanto ci vorrà per ripristinare l'elettricità? Ok, l'ascensore è stato individuato La cosa più importante è mantenere la calma Oh, che assurdo! L'ascensore è dottorato di sistema di sicurezza Non ci sono rischi di caduta Il sistema di ventilazione funziona correttamente Quindi potete respirare normalmente I tecnici sono già stati avvisati Per prima cosa verificheranno lo stato dell'alimentazione elettrica Se il problema tecnico dipende da noi Vi manderemo un meccanico per far scendere l'ascensore E farvi uscire il prima possibile Sì, ma ha idea di quanto ci vorrà? Perché abbiamo degli impegni lavorativi che non possono essere posticipati? Non so dirvelo con esattezza Non dipende solo da noi La compagnia elettrica ci deve fornire alcuni dati In modo da determinare il problema E trovare la soluzione più rapida E se non dipende da voi? Da chi allora? Per favore, restate calmi Sarete fuori al più presto Devo lasciare la linea libera In caso di emergenza, premete di nuovo il bottone Vi informerò personalmente sull'avanzamento dell'intervento tecnico A presto Grazie Sì, ma sbrigatevi! Fa temi uscire di qua Fa temi uscire di qua Fa temi uscire di qua E finirò non siamo in qua Fare un gioco e fare lui